Noi siamo venuti qua sapendo che era comunque una partita difficile perché conoscevamo la forza della Maceratese nonostante le assenze. Sulla carta? Sulla carta, beh no, diciamo che per quanto riguarda il reparto offensivo la Maceratese si è allestita molto bene, però purtroppo c'erano delle assenze. Noi abbiamo cercato di fare la nostra partita, abbiamo forse concesso qualcosina, però effettivamente poi siamo stati... Ma parlo del secondo tempo forse, con questa concessione che avete detto. Ma anche il primo tempo forse non siamo stati perfetti come volevamo e poi comunque siamo stati bravi a sfruttare le nostre occasioni, quindi credo che non abbiamo rubato niente. Noi volevamo oggi battere l'Atletico Piceno per poter sperare ancora di attaccarci a playoff, glielo dico con molta sincerità perché questo era lo spirito. Lei era una grande considerazione allora del parco giocatori perché con le infortuni, con quello che hanno dimostrato, arrivare a pensare ai playoff, ai limiti dei playoff mi sembra una bella utopia. Ma guardi perché il campionato d'eccellenza è questo, l'importante è avere la mentalità giusta. Quindi oggi commentare il 4-1 è un risultato che chiaramente non fa morale perché questa è una scoppola che sarà difficile da digerire, speriamo digerirla presto perché poi mercoledì già ci avremo un altro impegno. Però noi abbiamo il bisogno urgente di cambiare atteggiamento nel senso che questa squadra ad oggi deve rendersi conto che il nostro obiettivo è la salvezza.